Grazie, grazie. Grazie. Ci vediamo. No, ci vediamo. Ciao. Ciao, Dio. Grazie. La nostra avventura abbiamo cominciato con dieci parini, poi sono arrivati trenta, quaranta, cinquanta e via. E ora siamo dopo tanti anni, perché a un certo punto qualcuno di loro mi chiede, ma ora che viene l'inverno, sono i panini, non ci scatterano, potete farci un piatto caldo. Allora è venuta questa idea qua di trovare una cucina da venerdì. Tentiamo di coinvolgere sempre più persone in modo che Roma diventi una città dove le persone si vogliono venire, capito? Perché dice che è una solita degli età. Grazie.